Talprendisi al Martina dalla Serie D al campionato di eccellenza. Dino Marino, esperto centrocampista classe 85, ha deciso così di scendere di categoria. Senz'altro il progetto che aveva il presidente, i due presidenti, quindi l'allenatore, che è un grande allenatore, quindi la scelta è stata anche quella. Una piassa importante con un progetto importante. Marino la Serie D proverà a riprendersela, magari proprio con il Martina, per il momento però, proclami, preferisce non farne. Una società è una società giovane, quindi secondo me bisogna partire un po' con calma. Cercheremo di fare il possibile per dare soddisfazione al presidente e alla piazza, stando sempre con i piedi per terra, questo sì. Perché a differenza di altre società che hanno fatto una squadroni, noi stiamo facendo col mister le cose con calma e quindi cercheremo di fare il possibile per far bene. Non solo Marino, sono arrivati a Martina giocatori di spessore per la categoria come Barrera, Cappellari e Frucci in difesa, Tato e Camporriera a centrocampo, Ancora, Blazevic e Delgado nell'assortimento offensivo. La squadra della Valeditria è a lavoro da sabato scorso nel ritiro di Camerino, in provincia di Macerata, agli ordini di Massimo Pizzulli. Siamo un bel gruppo, stiamo cercando di formarci quanto più possibile il gruppo tra di noi, siamo tanti giovani e quindi cercheremo di fare il possibile in questa settimana che stiamo qua, sia i giocatori che tutto lo staff, bravi persone. Marino ritrova un'eccellenza diversa, questa volta con due gironi, i biancazzurri con ogni probabilità finiranno nel raggruppamento sud, almeno sulla carta, più debole dell'altro. Secondo me non è così, perché anche nel nostro girone, diciamo, se è quello che è del Salento, ci sono squadre come Rugento che ha fatto una bella squadra, il Raga è uguale, la Massafra, quindi ci sono squadre che magari non lo dicono alla stampa, però sotto sotto stanno lavorando a fare i spenti. Marino ha un buon feeling con il gol, ma sono gli obiettivi di squadra a contare realmente. Spero di fare zero gol e spero che la squadra possa andare avanti.